Where I Find Myself, pubblicato nel 2018, è davvero un libro imponente. Pesa 2,5 kg, ha 350 pagine ed è in formato 32x23 cm, quindi un po' più grande di un foglio A4. Ha una copertina rigida di colore rosso, sopra la quale c'è la sovracopertina con stampata una delle foto più conosciute di Joel Mayrovitz, Fallen Man, di cui ho già parlato in un altro video. Si tratta della prima grande retrospettiva dedicata a Joel Mayrovitz, fotografo statunitense nato il 6 marzo 1938 in America da genitori immigrati provenienti dall'Ungheria e dalla Russia. Mayrovitz ha iniziato a fotografare per le strade di New York nel 1962, insieme ad amici come Tony Ray Jones e Gary Vinogrand. È diventato uno degli street photographer più famosi e importanti della sua generazione, e negli anni 70 i suoi lavori hanno contribuito a cambiare l'atteggiamento nei confronti della fotografia a colori. Il libro è organizzato in ordine cronologico inverso, e in 10 capitoli ripercorre tutti i principali progetti e generi fotografici in cui Mayrovitz si è cimentato. Oltre a una selezione di fotografie, in ogni capitolo sono presenti anche delle note introduttive sulle serie e dei commenti di Mayrovitz sulle singole foto. Conoscevo Joel Mayrovitz principalmente per la street photography, ma nella sua carriera di fotografo ha spaziato veramente tra tanti generi, dallo still life, ai ritratti, ai paesaggi. Come scrive lui stesso all'inizio del libro. Ho iniziato come street photographer usando una fotocamera 35 mm, e dopo ho imparato a lavorare con il grande formato. In quel modo mi sono sentito a mio agio con entrambi i vocabolari. Ora parlo due linguaggi, quello più meditativo e classico del formato 8x10 e quello jazz della fotografia di strada. Anche l'indice del libro è quindi diviso in due parti, classical, i capitoli dall'1 al 5, e jazz, i capitoli dal 6 al 10. Vi voglio mostrare i vari capitoli, spiegando di cosa parlano e mostrando alcune delle foto contenute in ognuno. Essendo in ordine cronologico inverso, parto dall'ultimo capitolo e risalgo fino al primo. Nel 1962 Joel Meyerowitz lavorava come art director in una piccola agenzia pubblicitaria a New York City. Aveva studiato pittura, storia dell'arte e illustrazione, e non era sicuro che fosse questo quello che voleva fare nella vita. Un giorno, il suo capo dell'agenzia pubblicitaria, Harry Gordon, lo manda a downtown a guardare un fotografo che realizzava gli scatti per il nuovo libretto che aveva disegnato. Il fotografo era Robert Frank. Meyerowitz non aveva idea di chi fosse, perché non sapeva nulla di fotografia, ma in pochi minuti si rese conto che non aveva mai visto nessuno muoversi o usare una macchina fotografica come faceva lui. Diceva a malapena una parola alle ragazze, le lasciava libere di essere loro stesse, e poi in silenzio danzava dentro e fuori dalle loro attività e fotografava con la sua laica in modo apparentemente casuale. Rimane sbalordito da questa esperienza, dall'idea che ci si potesse muovere e scattare allo stesso tempo. Capisce che ogni scatto avviene in un preciso momento, quando il gesto di una delle modelle diventa significativo. Tornato in strada, una volta finite le riprese, tutto gli sembrava diverso. Ogni semplice gesto sembrava essere carico di potenziale. Una mano che si alzava verso un taxi, persone che si salutavano, una madre che si chinava sul passeggino per aggiustare il cappellino al suo bambino. Torna quindi nell'agenzia pubblicitaria e si licenzia, perché in quel momento capisce che vuole fare il fotografo. In questo capitolo ci sono quindi i suoi primi scatti fatti in strada a New York. Capitolo 9 The Color Question 1963-1968 All'epoca si pensava che la fotografia a colori fosse troppo commerciale, che fosse una cosa per amatori, mentre la vera fotografia era quella in bianco e nero. Mairovitz però, fin da subito, aveva scelto di scattare usando pellicole a colori. Perché non dovrei fotografare a colori? Il mondo è a colori, diceva. Per un certo periodo ha quindi deciso di fare un esperimento. Usciva con due fotocamere. Su una utilizzava la pellicola a colori, e sull'altra quella in bianco e nero. Quindi scattava due foto alla stessa scena, in modo da poter poi analizzare se per quel tipo di scatto era meglio il colore o il bianco e nero. In questo capitolo ci mostra alcune delle coppie di queste fotografie, con alcuni suoi commenti. Capitolo 8 On the Road 1964-1967 Mairovitz racconta che nel 1966 aveva guadagnato bene con un lavoro pubblicitario, tanto da potersi permettere di andare in Europa per un anno a fotografare. Così compra per 1700 dollari una nuova Volvo da ritirare a Londra, e gira con quell'auto per tutta Europa. Da Londra al Galles e all'Irlanda, poi in Scozia, Francia e Spagna, dove vive con la sua prima moglie sei mesi con gli zingari a Malaga. Poi di nuovo in Francia, Germania, Est Europa e Turchia. Infine in Grecia e anche in Italia, da dove prende una nave per rientrare in America. Durante questo viaggio, nel 1967 a Parigi, ha scattato quella che probabilmente è la sua foto più famosa, Fallen Man. Vi lascio il link in descrizione al video in cui ho parlato di questo scatto. Capitolo 7 America in the Time of Vietnam 1968-1972 Tornato dal viaggio in Europa nel 1967, Joel trova un'America molto diversa. Il paese sembrava preso dal consumismo, e nonostante la guerra del Vietnam, le persone sembravano vivere le loro vite come se non fossero affari loro. Fa quindi domanda per una borsa di studio al Guggenheim, per documentare come le persone trascorrevano il loro tempo libero in quel momento storico. Vince la borsa, e inizia un viaggio on the road in giro per l'America, sulle orme del viaggio fatto anni prima da Robert Frank e culminato nel libro The Americans. Vi lascio anche in questo caso il link in descrizione al video del libro Gli Americani. Il lavoro fotografico che ne scaturisce è il libro Still Going, come a dimostrare che gli Stati Uniti, anche se stavano zoppicando, impantanati in una guerra impopolare, continuavano comunque ad andare avanti. Capitolo 6 Letting Go of the Catch 1968-1976 Meyerowitz racconta che a inizio anni 70 aveva sentito il bisogno di smettere di considerare il colore e il bianco e nero come modi separati di vedere fotograficamente, e di concentrarci solo sul suo primo amore, la fotografia a colori. Per lui, il colore aveva più potere descrittivo del bianco e nero. Le strade di New York erano il suo pane quotidiano, ma doveva ripensare il suo modo di agire. Tramite la tecnica dello zone focusing, con le pelicole in bianco e nero, aveva quasi sempre tutto a fuoco, da 7-8 piedi, quindi 2-2,5 metri fino all'infinito. Quindi, in linea di principio, tutto era sempre a fuoco. Ma con le pelicole a colori Codacrom dell'epoca, che erano più lente, la profondità di campo davanti a lui era minore. Questo lo ha costretto a cambiare il suo modo di lavorare in strada. Ha dovuto fare un passo indietro rispetto ai 2,5 metri su cui lavorava di solito, e da dove aveva sempre previsto quello che sarebbe potuto accadere di fronte a lui. Si è quindi ritrovato a lavorare da 6 metri dietro, dove tutto sembrava diverso e si coglieva meno l'attimo decisivo. Ha iniziato a chiamare questi scatti descrittivi Field Photographs, perché all'interno del frame si vedeva l'intero campo, la strada, le persone, l'attività, gli edifici, il cielo e il tempo. Si metteva vicino agli angoli in modo da poter avere l'intersezione di folle proveniente da più strade. Aveva cambiato il suo modo di lavorare, lasciando andare tutto ciò che sapeva già fare, per vedere cos'altro si poteva dire fotograficamente, senza usare la tattica e il linguaggio di Henri Cartier-Bresson o di Robert Frank. Da qui ha avuto poi l'idea di comprare, nel 1976, una fotocamera grande formato 8x10 con obiettivo grandangolare. E ha portato quindi la sua famiglia a Cape Cod per un'estate, in modo da poter lavorare in un posto che era sia idilliaco per loro, ma aveva anche un po' di vita di strada. La sua pillola finale è che a volte occorre uno scuotimento dei propri valori per crescere come artista. A volte è necessario lasciare andare tutto ciò che si è imparato e ricominciare da capo. Qui finisce la parte jazz del libro e inizia invece la parte classica. Capitolo 5 The World Upside Down 1976-1990 Nell'introduzione, Joel racconta che all'epoca era sempre stato convinto che sarebbe stato solo un fotografo di strada e che non avrebbe mai immaginato di scattare invece anche con un banco ottico da 8x10 pollici. In questo capitolo troviamo una selezione delle foto dei progetti Bay Sky e Cape Light scattate col banco ottico. In particolare Cape Light è uno dei lavori più famosi di Myrovitz, una serie di foto colori scattate Cape Cod nel Massachusetts. Qui le scene quotidiane come un temporale in arrivo, un negozio di alimenti locale al tramonto, la vista attraverso una finestra di una camera da letto, vengono trasformate dalla straordinaria luce di Cape Cod e dalla visione del fotografo. Capitolo 4 Portraits 1980-2017 Questo capitolo è dedicato ai ritratti. Myrovitz racconta che come fotografo di strada ha scattato tante foto casuali alle persone che potrebbero essere definite ritratti, ma non le aveva mai considerate tali. La street photographer cercava di essere veloce e invisibile, ma quando scattava col banco ottico questo non era possibile. La gente gli si avvicinava chiedendogli cosa stava facendo. Ha quindi iniziato a interagire con le persone e a capire quanto sia interessante e affascinante ogni persona. La sua serie di ritratti, realizzata non in studio ma in strada, è fatta quindi di semplicità, umiltà e onestà. Nel capitolo è presente anche una serie di foto di famiglia scattate dalla moglie Maggie Barrett, che personalmente non ho trovato molto interessante rispetto al resto del libro. Capitolo 3 Cities 1976-2008 Questo capitolo continua gli scatti delle serie dedicate a città o a singoli edifici. Mi sono piaciute le serie dedicate all'Empire State Building di New York, al Gateway Arc di San Luis e all'Atlantic Center di Atlanta, tutte ispirate alla serie delle vedute del Monte Fuji dell'artista giapponese Katsujika Okusai. In queste xilografie l'artista giapponese aveva ritratto la vita quotidiana in Giappone e in ogni scena il Monte Fuji appariva sempre sullo sfondo. Allo stesso modo Mayrovitz ha realizzato alcune serie in cui riprendeva la vita quotidiana o alcuni scorci della città tenendo sempre il grattacielo o l'arco all'interno dell'inquadratura e creando anche delle relazioni tra i vari elementi. Capitolo 2 Elemental 2001-2010 Questo capitolo contiene gli scatti effettuati alle macerie di Ground Zero dopo l'attacco alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001 che fanno parte del progetto Aftermath. Vi racconto una curiosità. Mayrovitz dal 1981 ha uno studio a New York dalla cui finestra si vede il World Trade Center e da cui fotografava spesso le Twin Towers. La mattina dell'11 settembre era andato a fare un servizio commerciale per un hotel in Massachusetts. Avvertito dalla moglie di quanto era successo è tornato a New York ma non è potuto entrare in città se non dopo 5 giorni perché erano stati proibiti accessi e uscite. Dopo il divieto impostogli da una poliziotta che gli aveva detto che non era permesso fotografare sulla scena del crimine riesce a ottenere il permesso e sarà poi l'unico fotografo a poter scattare da Ground Zero. Qui da settembre 2001 a marzo 2002 scatta circa 8000 foto che ora vengono conservate nei musei di New York e Washington. Il capitolo contiene inoltre alcune fotografie scattate in Toscana e in Italia e le foto della sua serie dedicate agli elementi aria, acqua, fuoco e terra. Capitolo 1 The View From Here 2012-2017 L'ultimo capitolo in ordine cronologico che poi è il primo raccoglie una serie di still life realizzati in Toscana negli ultimi anni. Mayrovitz soggiorna spesso in una casa immersa nella campagna senese e qui, quasi per caso, ha iniziato a sperimentare con gli still life realizzandone poi un progetto. Nel complesso è un libro che mi è piaciuto molto. non solo per le immagini ma anche per i commenti e le note dell'autore che permettono di capire meglio il contesto e approzzare quindi al meglio gli scatti.